Ok, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono a Tirrenia, ho fatto un'antenna con i fratelli, mentre aspetto che torni giù facevo le prove di training per vedere come funziona e ne approfitto per salutarvi un po' tutti. Oggi è molto freddo, anche se c'è il sole, e se proprio me la devo di putta, non c'è nemmeno il morale tanto alto. Ah, già, questa cosa la posso dire, qui sono a casa di Vittoria, l'isola dei famosi, che è il nostro cliente da una vita, lui sta a Tirrenia, non si sta a Marina. C'è la verità, sono da assumare, da assumare, non so chi, questa è la cassina che sta a lui, enorme, che è proprio a ridosso della pianeta di Tirrenia, non è delle ultime case, o delle prime, a seconda della parte in cui si viene. Io sono sempre qui, che mi tappo la fredda, anzi, non mi tappo la fredda, vai. Ciao bimbi, ci si vede, buona.